Non mi sono trovato a un concerto, mi sono trovato a una serata in discoteca. Era quello, io non ero lì e mia moglie ancora sarebbe stata viva. Lei in un primo momento ha detto di essere molto arrabbiato. Ancora prova questa rabbia? Io ripeto solo che sono stato nel posto sbagliato, non sono andato a tratto con l'inganno lì, ripeterò sempre questa differenza tra me e i ragazzi che andavano lì. Io ho un biglietto per un concerto che iniziava alle 10 con apertura cancela ai 9 e mezzo. Non mi sono trovato a un concerto, mi sono trovato a una serata in discoteca. Era quello, io non ero lì e mia moglie ancora sarebbe stata viva. Come state affrontando questa cosa? C'è tanti amici, tante persone in questi casi che ci aiutano. Eleonora qualche volta l'ho vista però sono amici carissimi di famiglia. Cosa pensa in questo momento? Cosa devo pensare? Penso è un grande dispiacere per l'amico Giorgio, per tutti loro e per la prematura scomparso. Tutto lì, mi dispiace. Eleonora era una brava ragazza, purtroppo si è mancata. Era la mamma di due gemelli e amica di mia figlia che vanno a scuola insieme. La mia figlia che vanno a scuola insieme. La mia figlia che vanno a scuola insieme. La mia figlia che vanno a scuola insieme.